Ciao amiche, buon pomeriggio! Come va? Come state? Spero tutto bene! Prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Amiche, oggi aggiornamento bollettino sanitario. Stamattina, sapete che vi ho detto che avevo male a un ditto? Eccolo qua il ditto. Il ditto, come si dice, in questione un dollare! Amiche, questo è un fortunio sul video, perché praticamente stavo montando l'attrezzatura sull'asta nuova, vi ricordate la fantomatica asta nuova che doveva arrivare e dovevamo provarla insieme stamattina? Ciao, una molla amiche mia che è potentissima, puoi lanciare gli Angry Birds in orbita! Oh male! E invece ho anche un po' di tosse. Praticamente mi è partita la molla a razzo missile sul dito e mi ha scartavetrato anche l'anima e mi ha letteralmente scorticato via un pezzo di dito. L'abbiamo disinfettato, sì dico l'abbiamo perché io stamattina amiche non l'ho disinfettato, ma la regista quando me l'ha visto, scusate, scusate amiche un colpo di tosse, e praticamente la regista quando mi ha visto il dito, lei che è saggia, ha detto è viola, non va bene, ma l'hai disinfettato? No amiche perché stavo correndo, ero di corsa e mi sono letteralmente dimenticata, anzi io non ci do molto peso, allora quando l'opinionista, l'aiuto il regista, anche la regista si scarciofano, amiche mie io, oh no! Lo sapete perché la regista mi ha preso in giro tante volte, così, per modo di dire, non proprio preso in giro, però dice che io sono mamma prensiva e quindi li faccio disinfettare 780 mila volte. Però amiche il dito mio, invece, io sono grande e a volte ecco lo faccio male, anche perché ho detto vabbè ma tanto è plastica, ma probabilmente, anche se era plastica ed era nuova, mi dovevo disinfettare subito. Quindi cosa ho fatto? Ho dovuto intervenire sul dito, non vi dico, come lasciamo stare e disinfettare. Mi facciava male qua, la pancia vi dico, dal male, vuoi dire, a te solo un dito? Eh, però è mio, mi fa male e quindi niente, quindi oggi sono un po' così col dittone gonfio e sta così, quindi mi vedrete domani con lo smalto scarciofato, per esempio c'è il fatto che non tocco a cetone, amiche mie, e io a cetone non ne tocco perché ho paura che mi faccia peggio il dito, quindi tengo lontano da me. L'acetone brucia. Eh, l'acetone brucia. Mi ci dia anche quando hai una pellicina. Infatti. E siccome l'acetone brucia, lo tengo lontano dalle mie zampine e lo farò domani perché conto che sarà molto meglio il dito domani. No. Sì, però, non lo so, non penso che... E se no mi scoccetto il dito qua e lo faccio lo stesso, ecco, ma oggi no, perché sono un po' stanca, non ho voglia. Oggi sono un po' con le pile scariche, come dicevo una volta, non so se qualcuna se lo ricorda, c'era Carletto il principe dei mostri che praticamente la canzone faceva circa Mi sembra l'uomo lupo dov'è? E poi diceva, come che faceva? E Carletto, oh, 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 e poi diceva, ho le pile scariche. A metà canzone diceva così. E a me questa cosa delle pile scariche mi sembra rimasto perché cioè, quando... E si vedeva, mi sembra l'uomo lupo che era un po' così. Ecco, quando io sono un po' così come oggi, perché io amico, anche se ho un piccolo puntore, mi scaricano le pile. Sì, ho qualcosa che mi duele di diverso, ecco. Perché pazienza se è una roba conosciuta, se il problema è conosciuto, mal di testa, mal di pancia, mal di schiena, sul piccolo... No, dico, vabbè, ma tanto non è un'anomalia... Invece dici hai anche ansia che c'è qualcosa, che c'è infezione... Eh, ho l'ansia, sì, perché poi quando mi hanno detto, è brutto, a me che mi ha presa l'ansia, quindi mi viene proprio quel mal di pancia, brutto di ansietta, così, e poi mi pizzica tantissimo, c'è, da uno a dieci, un milione... L'abbè che l'hai zimpetta. Sì, quindi oggi un unbox make-up al volo, ma con tre. Cosa sono questi rossetti, balm, cosa sono? Allora, leggiamo, sono balsamo labbra, rivelatore di colore, idratazione istantanea, Color Magnifier, bella oggi, bella domani, bella sempre, ho comprato con la regista tutti i colori che abbiamo trovato, ed erano solo tre, giusto? Sì, perché gli altri non c'erano. Ma ce n'erano altri, secondo te? Non mi pare. Cioè, altri che si potevano comprare in altri periodi? Ma in altri periodi... Perché secondo me erano solo tre. Questi balsami, uno, due, tre. Ma allora può essere, sì, che sono solo tre. Uno, due, tre. Eh sì, e quindi secondo me erano in realtà solo tre. Io ne ho sempre visti solo tre. Allora, certo, ho detto, li compriamo e li proviamo. E infatti li ho presi al tigotà, la ragazza che c'era al tigotà, super stupita, mi ha detto, ma come non li hai ancora presi? Li hai presi tutti e questi non li hai presi? Eh no, non li avevo presi. Inquadriamo da vicino. Sono molto carini anche nel pack, questi sono i numeri. Secondo me sono veramente molto, molto belli. E due hanno il biglietto, guardate, questa è un'anomalia. Due hanno l'etichetta e uno no. Come? Strano. Eh, non lo so, gliel'hanno attaccato così. Sono tutti col sigillo del tigotà, quindi adesso li apriamo. Sono carini secondo me, però non lo so. Queste sono le aspettative altissime. Se adesso non sono belli ci rimango male. Apro. Vai, vai, apri. Anche perché un po'. E quanto costavano? Chi se lo ricorda? Non me lo ricordo. No, io non me lo ricordo. Perché li abbiamo presi prima delle uova di Pasqua. E poi sono rimasti là. Si sta staccando anche l'etichetta. Non viene via neanche... Si è staccata l'etichetta. Eh. Ha fatto un disastro. Eh sì, li avevamo presi prima delle uova di Pasqua. Poi ci siamo concentrati... Adesso mi scarciofo un altro dito, vuoi vedere? Con questo. E come dovrei fare io a staccare questo? E però, questa è cattiveria, con questi cosi del tigotà, tacati così. Vediamo. Eh, perché una volta mi è partito. Nel naso, almeno, che mi arrivava. Sì. Perché poi... Era già difficile. Eh sì. E dovevi vedere la molla stamattina? Ho detto, mamma mia, mi è partita. Ho preso paura. Perché poi io sono super imbranata. Allora, uno l'abbiamo liberato. Sono super maldestra, super imbranata. E mi faccio male con l'acqua lunghe, proprio. E l'ideale è andare a staccare. Scotch con questo dito oggi. Perché non lo riesco nemmeno a muovere. e quindi... Sì, proprio della mano destra poi che ti... Ma sì, infatti. Sono curiosa e ho aspettative molto alte. Non ce la posso fare. Come posso fare io qua? La carotina non lo taglia, quello mi so. Non lo taglia? Ma mi sembra troppo azzardato tagliarlo in due. Sì, no, dico anche a me, ma siccome di solito o usi la carotina o la forbicina, nessuno dei due può... È rimasto il metallo. Questo taglia pure? No. No. Eh sì, taglia. Sì, infatti in un altro taglietto. Sì, questo... Taglia, sì. Mi aiuti. Ah, non l'avevo mai visto dentro, si è smontato, se ne ha un altro. Interessante, insomma, vederlo dentro. E non sapevo che era fatto dito queste parti così, antitaccheggio. Ma che cosa sono quindi? Non ho capito. Sono lip balm. Balsamo labbra, che dovrebbero rivelare il colore della pelle. Ah, sono quelli che cambiano colore? Eh, forse sì. In base al pH sono quelli. Eh, non lo so. Ah, ok. Perfetto, no? Sì. Direi. Io compro le cose, non so cosa... Perché mi piace la sorpresa. Non mi sono informata. Questi sono tre colori, in teoria, no? Trasparente, rosa chiaro e rosa scuro. Ma non ho idea se sulle labbra, appunto, cambieranno colore. Adesso proviamo su una mano, quella buona. Quella buona. Eh, pure qua. Io penso che adesso dovrebbero uscire quelli estivi, no? Anche di bella oggi, di prodotti. E io vorrei accattarli prima degli altri, sto giro. Di Revolution, perché non esce nulla? Vado, apro. Allora, c'è lo 01 che si chiama Cloud Dancered. Lo 02 Rose Shadow. 03 Pink Flambé. Flambé. Flambé? Flambé. Sì, sì. Ok. Ok. Allora, speriamo che sia carino. Allora, si presenta con una profumazione mi pare neutra, totalmente bianco. Io li aprirei tutti, così. Ma dai. Ma dai, carini. Bellini. Non me l'aspettavo così carini. Allora. Già così l'impressione, vi devo dire, ottima. Guarda, perché sono tipo dei burro cacao, no? Sì. In effetti sono balsamo labbra. Adesso io tenderei una suocciata sulle labbra. No, sulle labbra. Sulla mano. E poi la mattina lo proviamo. Vado? Vai. Allora. E qua non sta cambiando nulla. Sì, aspettiamo. Aspettiamo. Mettiamo anche gli altri. Questo è il numero due. E poi là. Ah, sì. No, no, ma io vedo, eh. Sì? Sì, no, no. Questo è il due. E questo è il tre. Perché non lo sto schiacciando, sto facendo il laterale. E questo è il tre. Cosa si vede? Nulla. Sono diversi per niente. Sì, sì, si vede un po' di rosa. Quello, il secondo che hai sbocciato, si vede più rosa. Sono giusta, no? Questo è due. Però con il camera non c'è praticamente niente. Niente. Bene. Forse bisogna aspettare. Sa di burro cacao, secondo me. Proviamo a provare a non usare la regista. Sono giusta con i tappi, no? Questo è il numero due, giusto? E questo è il numero tre, quello che hai tu. Sì, sì. Sa di burro cacao, sì. Sì. Con l'apertura. Forse è un po' di vaniglia, appena appena. Siamo giusti, no? Con l'apertura, secondo te? Con le colorazioni? Sì, sì, sì. Era così la faccenda? È giusto che non confondiamo i tappi? Eh, sì, magari. È giusto? Sì, sì, è giusto. Ho il dubbio. No, no, è giusto. Ah, ok. Come colorazione, boh, vi dirò. Mi aspettavo una cosa totalmente diversa. Io mi aspettavo che cambiasse completamente... Io mi aspettavo che si vedessero questi due. Perché quello bianco, vabbè, non pretendavamo. Io pretendevo il glitter, però. Non me l'aspettavo che era così. Ti ripetavi il glitter? Ma sì, io nella mia testa, perché lui è così bellino fuori, questo rosa, così. No, io invece mi aspettavo che cambiassero colore. E sì, alla fine... Cambia. Boh, appena, appena, appena. Forse sulle labbra funziona diversamente. Può essere. Perché qua, allora, cosa dice? Aspettate che lo chiudo un attimo e leggiamo. Dice... Color Magnifier, balsamo labbra, rivelazione di colore, idratazione istantanea. Rivelazione di colore, dovrebbe rivelarlo lui il colore, no? Cioè, mi hanno anche detto nel negozio che erano bellissimi e quindi... Eh, infatti, mi ricordo. Eh, ma allora magari sulle labbra sono bellissimi. Gli ho detto, ma sì, non posso non prenderli. Comunque, balsamo labbra, questi non li mettiamo probabilmente alla fine del make-up, ma li useremo a metà. E penso di sì, sì. Come balsamo a questo punto. Sono contenta? Po' nuda. Ci sono rimasta male? Mera. Mi aspettavo di più? Certo. Ecco. Niente, oggi... Sapete quelle giornate storte, ma così storte? Che voi dite? Ma perché mi sono alzata dal letto e non sono rimasta lì coricata? Perché mi viene mal di collo. Eh? Non potevo nemmeno rimanerci dal letto. E ti è passata giocicollo? Eh, ancora mi fa male qua un po'. Mi duele. Là, no? Sei il punto dove mi faceva. Invece ho pure il colletto messo male. Eh, ancora un po' sento fastidio. Molto meglio. Mi pare che si sia pigmentato un po'. A me sembra uguale a prima. Non è cambiato. Le illusioni sono brutte. È perché io spererei. No, è uguale a quando l'avevi messo. Sono così carini fuori. Potevano essere carini. No, perché? No, mica. Sarebbe stato così ciuccio, così carino. Perché sono bellini. Li trovo teneri. Mi piace il pack esterno. Vabbè. Ho capito che al posto vediamo, tipo, no? Qualche giorno al posto della bello... Questi. E cosa dobbiamo fare? Però sono bellini. Cioè, come burro cacao, no? Secondo me è carino come burro cacao. E come questi secondo te erano costosi? No, forse 4-5 euro. Ok. Quindi dai, sì, ci sta. Però io mi aspettavo... Chissà come me me li aspettavo un po' glitterini. Cioè, me li... Eh, perché da fuori secondo me inganna il pack for us. E anche glossi me li aspettavo più lucidi. Vediamo. Magari sulle labbra sono la svolta. Perché non è mica brutta con me. Non è appiccicoso, quindi ok. Eh, bisogna provarli. Da 1 a 10, quando ci sono rimasta male... 10. Eh, perché mi aspettavo tutta un'altra cosa. Ma magari poi cambi idea quando li provi. Infatti, può essere. Invece, il Fat Oil, Lip Oil, Dynix, la svolta. Cosa? No, dico, è solo la first impression. La first impression terribile. Però, appunto, tantissimo sui prodotti nuovi che non sono ancora usciti. Che non sono ancora usciti. Sì. Palette, palette. Vogliamo le palette. Vogliamo tante palette. Quelle difficilmente deludono, diciamo. Infatti. I rossetti a me a volte deludono. I lipoil mi fanno volare. Sono così belli i lipoil. Sogno un mondo di lipoil. No, scherzo. E niente. Io direi che oggi abbiamo avuto un... Unbox Lambo. E niente. Direi che domani lo faremo sicuramente un pelino più lungo. Io sono super curioso, amiche mie, di sapere come è andato il vostro sabato. Io, come vedete... Dolorante. Ho lottato tantissimo con la lavatrice, con l'asciugatrice, con le robe da spolverare, da sistemare. Ce n'è sempre così tanto. E infatti questa è la faccia stanca. Faccia stanca, dito dolorante. Adesso io direi che mi metto tipo giù dieci minuti, sperando di stare un pochino meglio. Tu vuoi aggiungere qualcosina? Ti vedo perplesso. Amiche mie, fatemi sapere se ci sono altri di questi balsami labbra. Se ci sono appunto altre colorazioni. Dato che c'erano, potevano mettere un azzurrino, secondo me. A me piacciono un sacco i balsami labbra azzurri, celestini. Sì, sono carini. Mi piacciono tanto, ma non li trovo quasi mai. Sono difficili da trovare. Anni fa se ne trovavano di più. Ne avevo uno bellissimo, che non so più se l'ho buttato. Beh sì, ma tanto ormai non lo potevo usare più. Ed era azzurro. Era bellissimo, bellissimo. Era così bello. Azzurro cangiante. Un rossetto era. Celeste azzurro. Bellissimo, bellissimo. Che però risultava come un balsamo. Ma era trasparente. Sì, era quasi trasparente. Ma era super carino. Se vi va, amiche lo sapete, fatemi sapere se c'erano altre colorazioni di questi bellissimi balsami labbra. E niente che dire. Io veramente oggi vado a riposarmi. Quasi quasi una bella tisana calda. Copertina, divano e un po' di relax. Oggi ci vuole tutto. Ci sta proprio benissimo. Super super relax. Amiche che dire. Io vi auguro una bellissima serata. Vi mando un bacio grande, grande, grande. E ci vediamo come sempre nel prossimo video. Amiche riposatevi. Buona serata. Ciao.